Bentornati, bentornati con il segno di voi, oggi siamo qui per la recensione di Zlatan, il nuovo film di James Jogren tratto dal libro I am Zlatan. Allora la trama, cos'è la trama molto semplice? È la storia di Zlatan Ibrahimovic, da dove è nato, dalla periferia di Malmo fino a diventare lo Zlatan che conosciamo tutti. Allora, trama molto semplice, è un biopic su uno dei calciatori indiscussi, più forti e famosi di sempre, questo che si è simpatico, che non si è simpatico, che vi piace o non piace, a cui non si discuta, che scava molto in profondità nell'adolescenza di Zlatan, mostrando la formazione e le influenze della sua crescita, tra i problemi con i genitori che erano separati, la difficile problematica adolescenza, tra condotta scolastica, comportamenti fuori da scuola, anche la cultura, come per esempio Muhammad Ali e Bruce Lee, e ovviamente il calcio, come Van Basten, come Ronaldo, video che guardo su YouTube, come Baggio, e ovviamente anche, soprattutto, da dove proviene? Da questo paesino in periferia di Malmo, principalmente occupato da immigrati, non a caso anche lui è figlio di immigrati, e quindi è un po' questo, è anche un po' se vogliamo la tagline del film, ovvero se vieni dal nulla, devi fare il doppio per ottenere qualcosa, questa è una frase che viene detta nel film, e volendo, è anche nel poster ufficiale del film, ma se vogliamo essere precisi, è anche una cosa vera, se hai talento, ma vieni da posti un po' sperduti, devi comunque lavorare al doppio, se invece vieni da posti già famosi, già comunque con infrastrutture, perché ovviamente se tu vieni da posti, tra virgolette, sconosciuti, sperduti, non ci sono neanche le infrastrutture, o le strutture, o per appunto accedere, per appunto fare queste determinate cose, impianti calcistici, o che sia, o qualsiasi cosa si voglia fare, devi andare a cercarlo, quindi, sotto questo punto di vista, è un film che dà anche degli insegnamenti, e questa è una cosa importante, di credere sempre nei propri sogni, di inseguire i propri sogni, contro tutto e soprattutto tutti, perché questo è un film, insegna anche che se ci sono persone che vogliono mettere il bastone tra le ruote, quelle persone sono le prime da far ricredere, e questa è una cosa importante, certo, è un film che, secondo me, a termine modesto parere, non elogia e neanche non sprofonda il personaggio di Ibrahimovic, nel senso che, in questo film, Ibrahimovic, dal primo minuto fino a un minuto e quaranta, durata totale del film, vedi la persona che ti aspetti che sia, ovvero dall'inizio del film, una persona che comunque è scontrosa, egocentrica, narcisista, egoista, molto egoista, soprattutto nel campo, quindi è una persona che, sì, gli viene dato tutto conta, però, diciamo, è una persona molto anche, con una corazza di sentimenti, una persona ruvida, una persona difficile, quindi, sì, ha avuto i suoi problemi, ma comunque, per tutto il film, tu vedi una persona, anche per esempio, nell'ultimissima scena del film, una persona che comunque, ha il suo comportamento, ha il suo carattere, questo carattere, non ha aiutato la sua carriera, e anche questo, il film vuole insegnare, comunque, di avere sempre rispetto per il prossimo, sempre rispetto, in ambito calcistico, sempre rispetto per i propri compagni, ma questo anche in ambito del basket, da pallavolo, in qualsiasi sport, in qualsiasi anche non sport, anche al lavoro, sempre rispetto dei compagni, testa bassa, fare il proprio lavoro e farlo bene. Questo Ibrahimovic non è stato, non lo è stato, nella sua adolescenza, l'abbiamo visto, soprattutto anche dal bambino. Buona interpretazione, secondo me, di Granit Ruschiti, che è calato molto bene del personaggio, un po' meno Dominic, un po' meno Dominic, ovviamente era un po' più difficile renderlo credibile, ma, diciamo che quando ho visto Dominic, ho più visto, l'interpretazione di Dominic, ho più visto una persona scontrosa e basta, invece il personaggio, il libro Ibrahimovic interpretato da Granit, quello nell'adolescenza, aveva un po' più sfumatura, un po' più sfaccettatura, un po' più interessante. Questo film, secondo me, ha due problemi e mezzo, che però questi due problemi e mezzo sono grossetti. Allora, il montaggio, secondo me il problema più grande del film è il montaggio del film, che per me, per il mio modesto parere, è completamente insensato. Si parte da Ibra, la primissima scena del film è Ibra nell'Ajax, dopo si va a Ibra a 12 anni, dopo si va a Ibra a metà, dopo si torna a 12 anni, dopo si va a Ibra all'Ajax, cioè, non ha assolutamente senso, se lo prende Ibra a 12 anni, 11 piccati anni che c'aveva, lo portavi fino all'ultima scena del film, senza salti, senza grandi capovolgime, anche perché è proprio il montaggio che non ha senso, cioè, le scene in sé hanno senso, ma è il montaggio che non ha senso, cioè, non ho capito perché si parte con Ibra con l'Ajax, primissime scene, dopo si torna a Ibra, si va a Ibra a 12 anni, per riandare dopo a Ibra all'Ajax, ma, cioè, parte da uno, parte dal principio, ma fino alla fine. Cioè, anche perché il montaggio, il montaggio non è che rende il film più curioso, perché ci sono dei nilgmi, anche perché, ragazzi, stiamo parlando di un biopic, di una persona tuttora in vita. Quindi, non è che ci sono gli enigmi da svelare, cioè, nel senso, non è Shepard Island, o Inception, che ci sono gli enigmi da capire, cioè, o la cosa che è il passato presente e il torno al futuro, cioè, è un biopic normalissimo. Poi, le scene dove si gioca a calcio, questo è un problemino, se è un film su un biopic di un calciatore, non sono girate benissimo, cioè, sono girate tutte dal dietro, la maggior parte delle scene, e questa cosa, allora, riprende un po' il poster, se vogliamo, anche la prima scena, che Ibra ha ripreso da dietro, anche il poster lo vediamo, è quello qua, con Ibra da dietro, ok, però, le scene di calcio, cioè, arriva un passaggio, e l'equalatura rimane fermo sul giocatore, che aspetta il passaggio, potrebbe anche non essere Ibra, spesso non era lui, il tiro a volte si vede, a volte non si vede, le finte, la telecamera sta su Ibra, sul busto di Ibra, e le gambe non vedi le finte che fa, i tiri, avvolgono di solo lui che carica, e non vedi il tiro che parte, cioè, nelle scene di calcio, si potrebbe fare molto di più, un campo largo, una scena a seguire, ma da lontano, le inquadrature, sulle scene di calcio, non mi sono piaciute, non tutte, alcune erano interessanti, alcune nei tiri, però, si potrà fare un po' di più, secondo me, nelle scene di riprese calcistiche, poi, un'altra cosa, e questo secondo me, questo problema è da attribuire, al come si è voluto, come è voluto fare il film, ovvero che questo film, non ha, secondo me, una scena, cardine, una scena che tu dici, ok, ci siamo, cioè, non dico me, nei film d'azione, la resa dei conti, o come, vi cito un biopic, Buimir Rhapsody, il Live Aid finale, scena, scena iconica del film, la scena più rappresentativa, una scena che rimanga, in questo film qua, manca, anche perché, la scena, della partita di calcio, l'ultima partita di calcio, aveva il suo primo gol con l'Ajax, quel bellissimo storico gol con l'Ajax, è solo quei gol lì, non c'è lui che provava a fare gol, lui che si smacca la partita, riprende il secondo tempo, è solo e disclusivamente quel gol lì, non c'è tutta la partita, e questo è un grandissimo, secondo me, problema in un film, in un biopic, proprio per il fatto che manca una, una scena importante, e questo è da attribuire due cose, cioè, una cosa che dopo ne collega subito un'altra, il fatto che tu hai voluto fermare il film, al gol di Ibra, ovvero al gol che ha reso Ibra, Ibra, ovvero come tutti lo conosciamo, e il fatto che, essendo che la persona è tuttora viva, e soprattutto tuttora sta giocando a calcio, non ha smesso l'attività, è un po' difficile decidere dove fermarsi, perché ti fermi all'Inter, ti fermi al Barcellona, allo United, al Paris Saint-Germain, alla Svezia, non so, devi fermare a un punto, essendo appunto che la persona sta ancora giocando, era un po' difficile decidere a dove fermarsi, quindi hai scelto, hai il suo primo gol con l'Aex, ma manca ovviamente, tutto quella, tra virgolette, detto fra noi, manca tutto quello che regista, sapentemente, ti ha messo nei titoli di coda, nei titoli di coda, vedi i gol più iconici di Bregimovic, quelli rovesciati da centrocampo con l'Inghilterra, il tacco con il Paris Saint-Germain, il gol da 150 metri col Baguermont, quello suat, col Manchester United, il gol col Milan, il gol con l'Inter, il gol quando è arrivato la Juve, il gol con Lecce, quando era il Milan con Lecce, è stato bravo, il regista, a metterti, nel senato di coda, come ogni biopic che si rispetti, alcuni gol suoi iconici, e questo ovviamente è apprezzabile, da me che comunque Bregimovic è il mio giocatore preferito, tuttora in attività, agiamo, però ovviamente manca la scena più importante, quindi ecco, il film è un biopic classico, non ha grandi capovolgimenti di fronte, parte dall'inizio e va alla fine, sempre con il montaggio a caso, però comunque non è, o è un biopic, quindi parla della vita di una persona, quindi parla della adolescenza, la cosa che mi è piaciuta tanto è che ha parlato tanto dell'adolescenza, proprio sulle, sulle influenze che ha avuto Ibra, tra dove è nato, soprattutto dove è nato, i genitori e appunto poi la cultura, e tutte quelle cose che ne sono seguite, alcune scene sono un po' così, tipo, ne cito una, il suo rapporto con la ragazza che gli piaceva, è una storia che non ha una fine, ha un inizio nella parte centrale, dopo prosegue, dopo si interrompe, dopo prosegue ancora, non ha una fine, si incontrano alla festa, dopo che il Malmo giovanile ha vinto il campionato giovanile, però non ha una fine quella scena, non ha una fine quella storia lì, non ha una scena conclusiva, è una roba un po' messa lì in aggiunga, io non ho altro da dire, il mio voto è 6 più, mi aspettavo qualcosina di più, però secondo me il fatto che la persona sta tuttora giocando, quindi non c'ha ancora una fine della carriera, è un po' così, manca un po' di epicità se vogliamo, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, pagina Facebook, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ci vediamo nella prossima puntata, con gli insani di Boyle che sfideranno uno contro uno a calcio Ibra, tra da uno, diritto.